Ciao ragazzi, oggi non potete perdervi questa puntata perché andremo a leggere i contatori dell'acqua, il contatore del gas, classici, che abbiamo tutti in casa, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e di un software di riconoscimento delle immagini tramite OCR che ci permetterà di rilevare tutti i consumi e ovviamente integrarli in Home Assistant. Il tutto in modalità Wi-Fi e soprattutto ci basterà pochi euro, perché l'hardware necessario veramente costa poco e si tratta di fatto di un ESP32 con ovviamente attaccata la sua bellissima fotocamera. Quindi ragazzi seguitemi che vi spiego il tutto. Iniziamo con vedere l'hardware necessario e dove trovarlo, ricordate comunque che vi lascio tutti i link in descrizione per l'acquisto. Allora, prima di tutto ho creato un carrello Amazon così vi faccio vedere nello specifico cosa servirà. Servirà un ESP32 cam kit, questo è perfetto, lo trovate su Amazon a circa 22 euro, c'è anche un coupon in questo momento e ve ne inviano addirittura due, così a meno potete già fare acqua e gas. Poi servirà una piccola scheda SD, ricordatevi di prenderla piccola, perché il progetto non supporta grosse dimensioni a livello di gigabyte, quindi io qua ad esempio ho selezionato 8 gigabyte, oppure se ne avete già una. Servirà ovviamente un alimentatore per alimentare il nostro ESP a 5 e ho preso qua, vi faccio vedere, un convertitore da 220, quindi se vicino al contattore dell'acqua avete la possibilità di tirare dei fili, a questo punto basterà tirare la 220, perché poi il modulo è Wi-Fi, comunicherà in Wi-Fi, e a questo punto avrete alimentato anche l'ESP. Qualora invece non avete questa possibilità, vi do già un'altra soluzione, che è prendere un battery shield, ad esempio questo, che vi lascio sempre il link in descrizione, che vi consentirà di alimentare appunto il vostro ESP32 e poi di andare a ricaricare le batterie, che in questo caso sono batterie LiPo 18650. Con questo hardware, che qua dice 57 il totale, ma in realtà dovete prendere o questo o questo, e poi l'SD, normalmente ce l'hanno in casa tutti qualche SD, quindi alla fine con una trentina di euro, 35 euro, avrete la possibilità di tenere sotto controllo tutti i vostri consumi. Quindi questo è l'hardware. Ora passiamo a configurare, perché la prima cosa che dobbiamo fare è configurare il firmware dell'ESP che ci arriverà, adesso vi farò vedere cosa effettuare, quali programmi scaricare, tutta la procedura. Vi ricordo che per gli abbonati a Domotica per tutti i Plus trovate tutta la procedura nelle cartelle e nel link qui sotto, oltre che tutto il software necessario. Quindi ragazzi, abbonatevi anche per sostenere il canale. Allora, ora andiamo a scaricare il software necessario. Per prima cosa dovremmo scaricare il software che permette di scrivere il firmware. Allora, all'interno della cartella, quella degli abbonati, diciamo lo troverete già sotto Tool per firmware. Vi lascio comunque il link per poterlo scaricare, anche se non siete abbonati. Una volta che entrerete in questa cartella, troverete Flash Download Tool 394. Andate due volte ad eseguirlo e ovviamente andate a selezionare, nel nostro caso, ESP32, il Work Mode lasciatelo pure in Develop, e lo Add Mode WART, che è la porta che andrà a utilizzare. Datelo OK e a questo punto vi si presenterà questa schermata, che andrà configurata con una serie di parametri e file, che troverete sempre all'interno di questa cartella. Quindi sotto SD Card e Firmware abbiamo questi tre file, che sono il Bootloader, il Firmware e il Partition. Andranno selezionati e inseriti qua e rispettivamente in questa maniera. Nella prima posizione andate a selezionare il Bootloader, quindi noi adesso andiamo a selezionare il file bin del Bootloader, e qua andiamo a scrivere 0x1000. Nella seconda andiamo invece a selezionare il file del partition, bin, e andiamo a scrivere invece 0x8000. Nella terza, l'ultimo file che abbiamo, che è appunto il firmware vero e proprio, e andiamo a mettere invece come valore esadecimale 10.000. Quindi in questo momento siamo pronti a scrivere. Lasciamo inalterate il resto delle opzioni, così come ce le abbiamo, e ovviamente una volta che abbiamo collegato la nostra periferica, che adesso andremo a vedere, alla porta USB del computer, si potrà dare lo start e a questo punto partirà la scrittura. Ora ragazzi andiamo a vedere un attimo come si presenta il componente hardware che vi arriverà a casa, per questo cambio inquadratura, e vi faccio vedere il componente che vi arriverà, è questo qua, come potete vedere. banalmente abbiamo qua la telecamera, e potremo andare a collegare l'USB, cioè quello che dobbiamo fare adesso, la microUSB, per poter poi configurarlo e flashare il firmware. Quindi io adesso collegherò il componente, e poi torneremo subito, ok, abbiamo collegato, si accenderà una luce, come potete vedere, adesso non mi sta lì, ecco qua, lasciamolo pure così, tanto dobbiamo solo configurarlo, ok, e adesso possiamo tornare alla nostra bellissima applicazione e vedere se la porta COM è stata riconosciuta, e la vediamo qua, nel mio caso è la COM6, perché la COM1 già ce l'avevamo, quindi a questo punto ci basterà cliccare su Start, e per avviare il processo, quindi clicchiamo su Start, e come vediamo sta facendo delle cose, quindi adesso attendiamo il completamento del processo, con la barra la vedete qua, e poi dovremo andare a configurare la micro SD, o meglio, andremo banalmente a strutturarla con delle cartelle, trovate comunque il tutto all'interno della solita cartella, poi comunque vi lascio anche dei link per andare a approfondire il tutto. Il processo è terminato, come potete vedere qua, abbiamo Finish, e anche sulla parte DOS ci dà la stessa cosa, quindi quando abbiamo completato questo, ora ci dobbiamo occupare di andare a sistemare appunto la nostra scheda SD, quindi all'interno della cartella troverete SD card.zip, non vi resterà che estrarlo, ok, quindi ce l'abbiamo qua, e a questo punto andrà copiato il contenuto della cartella SD card all'interno della nostra SD, quindi la nostra SD adesso la vado a inserire, che è quella comunque che vi ho fatto vedere prima per prenderla, andiamo a inserire, nel mio caso l'SD, e ho preso un SD da 8 GB, perché vi ricordo di non prendere SD grandi per questo progetto, poi mi raccomando un'altra cosa, deve essere formattata con Master Boot Record, ovviamente FAT32, non EXFAT32, FAT32 classica, ok, quindi una volta che abbiamo questo, copiamo il contenuto di questa cartella all'interno appunto dell'SD, tendiamo alla fine della copia, e possiamo andare a questo punto ad inserire la nostra SD, adesso vi faccio vedere, all'interno del nostro modulo, ok, torniamo un attimo di là nel dettaglio, e vi faccio vedere che il nostro modulo che abbiamo qua, adesso qua togliamo pure l'USB tranquillamente, ha un ingresso che è qua, qua, quindi l'SD andrà inserita ovviamente nella sua posizione e cliccata, una volta inserita dobbiamo andare ovviamente ad alimentarlo, quindi adesso torniamo un attimo di qua e andiamo ad alimentarlo, ah, una cosa ragazzi, prima di alimentarlo dovete sistemare il VLAN.ini, si può fare eventualmente anche dopo collegandosi in hotspot, però facciamolo prima e banalmente dovete inserire in questo file il nome della vostra rete e la password e poi vabbè ci sono anche un'altra serie di opzioni volendo per fissare l'indirizzo IP eccetera, comunque per il momento usate solo questi due e poi lo configuremo eventualmente da interfaccia web. Quindi io adesso vado a popolare queste due cose con le informazioni della mia rete, salvate e poi potete avviare. Bene ragazzi, una volta che l'avremo alimentato ho sistemato il file Wi-Fi.ini si collegherà abbiamo già trovato l'indirizzo IP che ha preso che è questo e ci troveremo davanti alla pagina di setup. Allora, prima di far ciò io comunque vi consiglio ovviamente di posizionarlo anzi è obbligatorio posizionarlo all'interno della solita cartella trovate anche delle stampe 3D delle stampe 3D che vi permetteranno di andare a creare adesso ve lo faccio vedere in dettaglio questo affare qua gigante vedete? Questo si metterà andrà accapocchiato sul diciamo contabilizzatore dell'acqua qua andremo a posizionare questo con la telecamera ovviamente rivolta verso il basso e questo qua farà da cappuccio vero cappuccio buio e quindi inquadrerà perfettamente il nostro contatore a questo punto ragazzi io adesso vado a installarlo velocemente vabbè non vi faccio vedere come installarlo ma mi sembra abbastanza chiaro e poi torniamo qui che così continuiamo con il setup vi ricordo inoltre che se avete la 220 lì vicino al contatore dovete anche mettere il riduttore da 220 a 5 che è quello che vi ho fatto vedere da acquistare in Amazon prima di collegarlo ovviamente tramite USB ok a fra poco ragazzi allora ho installato il tutto ora bisogna creare una immagine di riferimento dei segni di riferimento e andagli a indicare dove sono le cifre quindi andiamo a fare su next attendiamo che si carichi l'immagine di esempio che è questa poi facciamo create new reference a questo punto attendiamo che scatti la foto direttamente al contatore ecco qua la mia è del tutto girata quindi magari qua la andiamo un attimino a sistemare ad esempio con un meno 30 dove almeno vediamo dritto 5 1 4 e comunque dei segni di riferimento che possono essere questi qua a questo punto se siamo soddisfatti della nostra immagine possiamo anche mettere a fuoco meglio la telecamerina eccetera eccetera comunque facciamo una cosa diminuiamo magari l'intensità del led e vediamo se riusciamo ad avere un'immagine un po' più chiara facendo ancora take image attendiamo ok mi sembra nettamente più chiara va meglio a questo punto ci basterà fare salva ci chiede se è sicuro di salvare l'immagine di riferimento e gli diciamo di sì ok a questo punto dobbiamo andare avanti aspettiamo che processi l'immagine e poi andiamo avanti con next sta ancora salvando quindi attendiamo ok ha salvato l'immagine di riferimento come potete vedere save se è ingrigito a questo punto andiamo su next e dobbiamo andare a definire appunto dei punti cardine per l'allineamento dell'immagine ok quindi attendiamo anche qua che carichi ha caricato la nostra immagine e qua ci dice ci suggerisce dei punti di allineamento andiamo a a digli noi tramite appunto questa cosa dei punti quindi non so possiamo prendere per esempio questa m e questa r per esempio ok quindi iniziamo dalla m definiamola e andiamo a fare a update reference image sul reference 0 ho definito quindi m3 come primo riferimento e come secondo riferimento r2 come potete vedere quindi ricordatevi fare clic su save io l'ho già fatto e andiamo alla parte di definizione dei numeri ok quindi qua abbiamo adesso si caricherà l'immagine e avremo i vari digit da sistemare in questo caso 3 vabbè mettiamone 4 quindi qua abbiamo digit 1 digit 2 digit 3 creiamo subito un nuovo ROI e lo chiamiamo digit 4 così abbiamo tutti i nostri digit perfetto ora li dobbiamo andare a sistemare partiamo dal digit 1 e diciamo che 1 2 3 4 quindi il digit 1 è questo qua ok poi anche qua andiamo sul digit 2 e il digit 2 è questo qua poi andiamo sul digit 3 e il digit 3 è questo qua stessa cosa poi per l'ultimo che andiamo a sistemarlo un po' che non l'ha creato proprio precisamente ok e lui ovviamente li risistema anche perché sono loccati tutti gli altri una volta che abbiamo fatto questo basterà salvare anche questa parte qua la configurazione è stata applicata quindi andiamo avanti ricordiamoci che poi si applicherà il tutto quando faremo un reboot qua per diciamo beccare le freccettine queste freccettine dei contatori vecchi analogici noi qua togliamo quindi non abilitiamo assolutamente niente facciamo save e poi dopodiché facciamo reboot o atvd change quindi attiviamo tutte queste configurazioni e andiamo avanti qua ci metterà un 60 secondi quindi attendiamo ok il riavvio è stato completato qua sta cercando di acquisire la prima immagine per leggere i primi valori ma prima di tutto noi dobbiamo andare a configurarlo e configurare i parametri MQTT utili poi alla nostra interfaccia Home Assistant per acquisire i valori quindi andiamo in setting configuration e qua c'è la parte di MQTT quindi andremo ad abilitarlo e andremo a identificare ovviamente l'URI quindi vuol dire l'indirizzo IP del nostro server moschito probabilmente per voi MQTT e andremo a definire username e password e ovviamente i topic che andrà il client ID potete lasciarlo così i topic che andrà a poi letto lato Home Assistant quindi adesso io configuro ovviamente questi parametri con il mio MQTT e poi andiamo a vedere subito come andare a intercettare appunto questi dati che ci invierà questo dispositivo per poterli avere anche in Home Assistant siamo andati sulla nostra istanza di Home Assistant adesso perché dobbiamo configurare gli MQTT sensori MQTT di importanti di fatto ce ne sono due uno che ci darà la lettura del contatore in metri cubi ovviamente e l'altro che invece ci indicherà quando è stato letto cioè l'ultima volta che è stato letto adesso per semplicità io metterò solo il sensore della lettura poi gli altri sensori disponibili ve li lascio comunque a disposizione nella cartella nel frattempo ragazzi se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un bel like un po' per promuovere il canale per promuovere appunto questo video anche ad altre persone allora una volta andati sotto MQTT se avete seguito gli altri corsi saprete come andare a configurare questa parte comunque vi lascio qua il mio video dove ve lo spiego nel dettaglio adesso utilizziamo un file IAML qualsiasi che può essere banalmente quello dello Shelly ma giusto per farvi vedere come si configura quindi gli daremo un nome che non so per esempio chiameremo contatore acqua lettura ok dopodiché sarà importante definire lo state topic quindi facciamo così copiamo da sopra così poi andiamo più spediti ok e andiamo a modificarlo quindi lo state topic ovviamente non sarà quello ma sarà se avete lasciato le impostazioni di default sarà with meter a questo punto con lo slash main slash value main è quando avete configurato i digit che si chiama già main quindi io vi consiglio di lasciare tutto così in maniera tale che avete questo poi a livello di value template possiamo utilizzare banalmente siccome non sarà un json value quindi direttamente così unità di misura qua potete mettere quello che è ovviamente l'unità di misura del vostro contatore nel mio caso metri cubi quindi andiamo a cancellare questo questa diciamo è la configurazione di base lato mqtt poi in realtà espone anche altro questo software oltre alla lettura appunto come vi dicevo potreste anche vedere la parte analogica quando è stato aggiornato comunque poi vi lascio nel file il tutto comunque questo sarà sufficiente per avere un'idea di quanto consumiamo a livello di acqua o di corrente qualora scusate o di gas qualora l'avete applicato a un contatore di gas quanto consumiamo e di conseguenza averlo all'interno del nostro home assistant questo ci consentirà anche di avere appunto questo valore all'interno della plancia energia chiamiamola così di home assistant ve la faccio vedere sulla mia istanza dove io vabbè oltre al contatore dell'acqua che è questo anche gas e elettricità tutto in uno e quindi voi se fate ad esempio solo la parte di acqua avrete questa parte qua che vi dirà i consumi nel mio caso è in litri e ovviamente avrete anche i totali e se mettete anche i costi dei metri cubi avete anche quello il tutto ovviamente raggruppato per settimana mese e anno quindi avete una visione globale di tutte le vostre spese bene ragazzi io sono arrivato alla fine spero che il video vi sia piaciuto che sia interessante e ci sono anche altri modi per integrare questi contatori se siete interessati comunque scrivetemelo nei commenti ma questo è un modo abbastanza efficace e non ci vuole troppo ad implementarlo e soprattutto a basso costo bene io vi invito a iscrivervi a abbonarvi per sostenerci e ci vediamo alla prossima con una nuova importante con un nuovo importante progetto ovvero utilizzeremo un sensore che percepisce il suono tramite SPOM in maniera tale da integrarlo in un sistema di allarme quindi non perdetevi il prossimo video ciao ragazzi e grazie